Stadio Tomaselli, i lavori della messa in posa, attesi dopo le festività natalizie, poi posticipate a fine gennaio e a fine febbraio, sono ancora le battute iniziali. L'attuale fase è quella dei lavori preliminari, che avvengono prima dello sbancamento e ci confermano dall'Ufficio Tecnico del Comune che l'azienda, dopo rilevi quotati, ha dovuto effettuare un'indagine sul terreno con prelievo di campioni per il conferimento del materiale, che sarà poi sbancato prima della posa del manto erboso sintetico. Solo dopo la fase preliminare procederanno quindi con l'intervento vero e proprio. Tempo dei lavori 4 mesi, ad oggi la struttura è ancora aperta e fruibile per gli appassionati che vorranno goderne in caso di buone giornate per fare attività sportiva, prima dello stop dell'uso dell'interno della struttura per tutta la durata dei lavori.